Allora, non preoccupatevi delle giunte, non hanno modo di esistere, perché non è una velatura quella che io sto facendo, è una ceratura. Quando posso avere problemi di giunte? Se io prendo lo straccio e inizio a lavorare in questo modo. Lasciare questi segni di lavorazione vuol dire avere delle macchine lentamente più scure, ma soprattutto avere problemi di sovrapposizione. Questa cera va tirata completamente in questo modo e in tutti i poli che ci sono aperti, io la faccio penetrare all'interno creando questo effetto di invecchiatura.